Manca poco più di un mese all'apertura del nuovo centro commerciale Blue Garden di Viale Rovereto a Riva e la nuova struttura ha scatenato una vera e propria corsa al posto di lavoro. La società LAPE SRL ha attivato un punto di riferimento per l'invio dei curriculum e le proposte pervenute qualche giorno fa superavano abbondantemente quota 400, a testimonianza della richiesta e della necessità di un posto di lavoro. Secondo una stima, saranno circa 150 i nuovi impieghi che si verranno a creare. Una proiezione attendibile considerando che l'unica realtà che effettua di fatto un trasferimento sarà la Coppa Altogarda, mentre le altre realtà commerciali, circa 30, sono per la quasi totalità marchi nuovi per la zona e alcune hanno medie superfici di vendita, cosa che richiederà quindi un discreto numero di personale. È il caso, ad esempio, di Cisalfa, ma anche di Piazza Italia, 800 metri su due piani, e della catena piemontese con tè scarpe. Nel frattempo anche gli spazi rimasti vuoti sino a qualche settimana fa si stanno riempendo. Uno degli ultimissimi arrivi è quella della Lindt, azienda multinazionale con casa madre in Svizzera, specializzata nel settore della produzione e della vendita di dolci e cioccolato di lusso.